siamo in diretta aspetta vai però un po più eh no devo rifarla perché non c'era riflessi sulla plastica c'era riflessi sulla plastica guarda merda c'è riflesso aspetta ho sbagliato stiamo pensando a come continuare il corto veramente c'è un buco di scioneggiatura cos'era facciamo morire oppure no lo so no vinco io vinco ma cosa vince allora ci sarà una scena di saccagnate in bagno vinco io ma in cui il killer le prenderà da me si si avete sentito questo è direttamente sul canale sono sempre collegato siamo su uno dei set ricostruiti del bicocca questo è il bicocca ricostruito non è quello questi sono attori quindi sono comparsi avete sentito infatti qua tutto ricostruito il cibo lì è finto non è vero i libri anche la tizza lì dietro è finta anche quell'altra è una prova eh non è che stiamo lanciando la camera questa è una prova eh sì no mi fai ridere mi fai ridere questi versi no mi fai ridere un mostro 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 se c'è qualcuno adesso mi pia per spazio ce la guardo ce la guardo dov'è dov'è no questo è il backstage eh il più bello il backstage del corte signor come sempre ah 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 basta questo era solo per voi e questo è per tutti quelli che soffrono di mal di mare gente come la ripresa dalla bocca vabbè questo è il nostro set di oggi ciao ciao questo lo spara tutto uno zombie è tutto libero la zona un altro quello di prima sta scappando fallo fuori e stanno andando a girare stanno andando a casa stanno andando a casa stanno andando a casa pulando pulando si vuole comprare il cesto ritirami la catena video e questo è solo per te mamma stiamo mangiando genuino è un video è un video e adesso a un video a Grazie a tutti